Ciao cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Tutti gli argomenti che ti stai chiedendo sulle celebrità saranno speciali per te sul nostro canale. Non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video per essere immediatamente informato sulle ultime novità. Tagba Buyukustun, una delle attrici turche più conosciute e di successo, ha reagito duramente alle critiche ricevute negli ultimi tempi e non è rimasta in silenzio. Questa risposta energica ai commenti negativi espressi sulla carriera e sul lavoro dell'attrice ha causato grandi ripercussioni nell'ambiente mondo delle riviste. Tuba Buyukustun è da molti anni uno dei nomi indispensabili della televisione e del cinema turco. L'attore di successo ha iniziato ad attirare più attenzione con i progetti a cui ha preso parte di recente. Tuttavia, questo aumento di popolarità gli ha portato anche alcune critiche. L'attrice Tagba Buyukustun ha finalmente rotto il silenzio e ha difeso la sua carriera e il suo lavoro. Ildiz Tuba Buyukustun, che cammina tranquillamente verso il successo, è entrato nella lista degli attori che hanno lasciato il segno nel mondo televisivo e cinematografico turco. Nel corso della sua carriera di attore, iniziata in giovane età, ha interpretato magistralmente molti personaggi diversi e ha vinto numerosi premi. Tagba Buyukustun, conosciuta sia in Turchia che a livello internazionale, ha attirato l'attenzione sia con il suo talento recitativo che con la sua bellezza. Ho vinto con il mio lavoro rispondendo alle critiche e alla mia determinazione. Alcune critiche nei confronti di Tagba Buyukustun hanno recentemente spinto l'attrice a rompere il silenzio. Tagba Buyukustun ha detto quanto segue sulla sua carriera, che ha ottenuto grazie al duro lavoro e alla determinazione. Per me la recitazione è una professione che richiede molta passione e lavoro. Metto il cuore e l'anima in ogni progetto. Sono sempre aperto alle critiche, con tutto il rispetto, ma non permetto che manchino di rispetto al mio lavoro e alla mia determinazione. Rispondendo alle critiche, Tagba Buyukustun ha detto che voleva capire coloro che la criticavano. Restate sintonizzati sul nostro canale, dove vi presenterò le novità sull'argomento.